Le eccellenze enogastronomiche campane immostrano gli outlet italiani ed europei e Fashion Food Tour 2014 che dal 1 maggio e per 5 weekend porterà nei grandi negozi standi prodotti tipici campani che potranno essere degustati e conosciuti dal grande pubblico. Tutte le imprese regionali potranno mettere in mostra i loro prodotti di qualità semplicemente iscrivendosi sul sito della regione Campania. I centri commerciali sono quelli della catena outlet MacArthur Glen con cui è stato siglato un apposito accordo. Sentiamo Roberto Meneghisso country manager della catena MacArthur Glen. Il nostro contributo è quello di riuscire a realizzare una mostra itinerante di quello che sono le eccellenze della Campania. Ovviamente non possiamo fare circolare Pompei, non possiamo far circolare le isole, però possiamo fare circolare attraverso i nostri centri che danno una visibilità incredibile. Soltanto lo scorso anno 17 milioni di visitatori nei nostri cinque centri italiani hanno potuto apprezzare quello che è il prodotto che noi offriamo e quindi dare la possibilità e la visibilità alle eccellenze della terra campana è sicuramente il minimo che noi possiamo fare. L'iniziativa è l'ennesima messa in piedi dalla regione per rispondere a due fenomeni diversi ma che stanno danneggiando la Campania. La cattiva pubblicità per l'allarme terra dei fuochi da un lato e i falsi made in Campania dall'altro. L'assessore alle attività produttive Fulvio Martuscello. Una delle tante risposte che abbiamo messo in campo, siamo consapevoli che di fronte al Sounding Italia, Sounding Campania, l'altro giorno abbiamo trovato un liquore che si chiama Capri che è fatto in Argentina, davvero incredibile di come si abusi della dominazione della regione Campania per fare promozione di materiale scadente, quindi anche questo è un tema che dovremmo affrontare per tenere alto il livello qualitativo delle nostre merci.